Il braccio Il braccio a quei tempi era più largo, raccontò ai pronipoti Stella Flanders in quell'ultima estate della sua vita, l'estate prima che cominciasse a vedere i fantasmi. I bambini la fissavano con occhi grandi e curiosi e suo figlio, Alden, si girò dalla sedia sotto il portico su cui sedeva a intagliare il legno. Era domenica e di domenica Alden non usciva con la barca neppure quando il prezzo della ragosta saliva le stelle. Che cosa vuol dire nonna? domandò Tommy, ma la vecchia non gli rispose. Faceva oscillare la sedia a dondolo davanti alla stufa fredda, urtando senza rumore e con le pantofole sul pavimento. Allora Tommy si rivolse alla madre. Che cosa vuol dire? Lois scosse la testa, sorrise e li mandò con dei barattoli a raccogliere le bacche. Stella pensò, si è dimenticata, che non l'abbia neppure mai saputo. Il braccio a quei tempi era stato davvero più largo. Se c'era qualcuno che poteva saperlo, questa persona era Stella Flanders. Era nata nel 1884, era la più anziana residente dell'isola delle Capre e mai una volta in vita sua era stata sulla terraferma. Tu ami? Questa domanda aveva cominciato a ossessionarla e non sapeva neppure che cosa significasse. Arrivò l'autunno, un autunno freddo, senza quella pioggia che avrebbe almeno colorato gli alberi. Sia sull'isola sia a Capo Procione dall'altra parte del braccio. Il vento, quell'autunno, fischiava note lunghe e fredde e Stella se le sentiva riecheggiare nel cuore. Il 19 novembre, quando i primi fiocchi di neve caddero vorticando da un cielo color cromo bianco, Stella festeggiò il suo compleanno. Ricevette la visita di quasi tutto il villaggio. Venne Attis Stoddard, la cui madre era morta di Pleurite nel 1954 e il cui padre si era perduto con Dancer nel 1941. Vennero Richard e Mary Dodge. Richard camminando lentamente lungo il viottolo appoggiato al bastone, appesantito dall'artrite come da un fardello invisibile. Venne Sarah Hevlock, naturalmente. La madre di Sarah, Annabelle, era stata la migliore amica di Stella. Avevano frequentato insieme la scuola dell'isola, dalla prima classe all'ottava, e Annabelle aveva sposato Tommy Frain, che in quinta le aveva tirato i capelli facendola piangere. Proprio come Stella aveva sposato Bill Flanders, il quale una volta le aveva fatto cadere dalle braccia tutti i libri di scuola che erano finiti nel fango, ma lei era riuscita a non piangere. Ora Annabelle e Tommy erano morti e Sarah era l'unica dei loro sette figli ad abitare ancora sull'isola. Suo marito, George Hevlock, che tutti conoscevano come Big George, era morto orribilmente sulla terraferma nel 1967, l'anno in cui la pesca era stata magra. Un'ascia gli aveva spaccato la testa. Molto sangue si era sparso, troppo, e dopo tre giorni sull'isola si era tenuto il funerale. E quando Sarah arrivò alla festa di Stella, gridò, buon compleanno nonna. Stella la strinse forte e chiuse gli occhi. Tu, tu ami, ma non pianse. C'era una grandissima torta di compleanno. Etty l'aveva fatta con l'aiuto della sua migliore amica, Vera Spruce. Tutti insieme cantarono tanti auguri a te con tanta foga da coprire il rumore del vento, almeno per un po'. Cantò persino Alden, che normalmente intonava solo avanti i sollati cristiani e la dossologia in chiesa, e non avrebbe cantato una sola parola di tutto il resto senza tenere la testa china e senza che le enormi orecchie gli diventassero rosse come pomodori. Sulla torta di Stella c'erano novantacinque candeline, e anche al di là del coro lei sentiva il vento, benché il suo dito non fosse più quello di una volta. Pensava che il vento chiamasse il suo nome. Non ero l'unica, avrebbe detto ai figli di Lois, se avesse potuto. In quei giorni c'erano molti che morivano senza mai aver lasciato l'isola. Non esisteva il battello postale. Quando c'era posta la portava Ball Symes. Non c'era neppure il traghetto. Se avevi da fare qualcosa al capo dovevi farti portare da una barca delle Aragoste. Per quanto ne so, prima del 1946 sull'isola non esisteva un solo cesso con lo sciacquone. Fu il figlio di Ball Harold a installare il primo l'anno dopo la morte del padre, falciato da un attacco di cuore mentre piazzava trappole sott'acqua. Mi ricordo quando lo portarono a casa. Ricordo che era avvolto in una tela cerata e che da sotto spuntava uno degli stivali verdi. Ricordo, e loro avrebbero chiesto, che cosa nonna, che cos'altro ricordi? Come poteva rispondere? C'era altro da ricordare? Il primo giorno d'inverno, un mese circa dopo la festa di compleanno, Stella aprì la porta sul retro per prendere della legna per la stufa e sulla scala trovò un passero morto. Si chinò con cautela, lo raccolse per una zampa e lo esaminò. Congelato, dichiarò, e qualcosa in lei pronunciò un'altra parola. Erano passati 40 anni dall'ultima volta che aveva visto un uccello congelato. 1938, l'anno in cui il braccio si era gelato. Rabrividendo e stringendosi addosso lo scialle, gettò il passero morto nel vecchio inceneritore arrugginito. La giornata era fredda, il cielo era di un blu cristallino. La notte del suo compleanno erano caduti dieci centimetri di neve, ma si era sciolta e non aveva più nevicato. «Arriverà presto», diceva saggiamente Larry McKinn nel negozio dell'isola delle capre, come sfidando l'inverno a starsene lontano. Stella arrivò alla legnaia, caricò una bracciata di ceppi e ritornò in casa. La sua ombra la seguì, netta e sottile. Quando arrivò alla porta sul retro, dove era caduto al passero, Bill le parlò, ma il cancro si era portato via Bill dodici anni prima. «Stella», le disse, e lei vide la sua ombra allungarsi accanto alla propria, più lunga, ma altrettanto netta e sottile. L'ombra inconfundibile di Bill, con il cappello sulle ventitré, come l'aveva sempre portato lui. Stella sentì un grido fermarsi in gola. Era troppo grande per salirle alle labbra. «Stella», ripetè lui, «quando verrai sulla terraferma. Prenderemo la vecchia Ford di Norm Jolly e andremo da Bina a Freeport per divertirci un po'. Cosa te ne pare?» Lei si girò, lasciando quasi cadere la legna e non vide nessuno. Solo i gradini del portico, l'erba selvatica bianca e dietro, al limite di ogni cosa, ben delineato fino a sembrare più grande, il braccio. E la terraferma dietro di esso. «Nonna, che cos'è il braccio?» avrebbe potuto domandarle Lona, anche se non l'aveva mai fatto. E lei avrebbe dato loro la risposta che ogni pescatore conosceva a memoria. Un braccio e un corpo d'acqua tra due corpi di terra. Un corpo d'acqua aperto all'estremità. La vecchia barzelletta del pescatore di Aragoste diceva così. «Imparate come leggere la bussola quando arriva la nebbia, ragazzi. Tra Jonesport e Londra c'è un braccio mica da ridere. Braccio si chiama l'acqua tra l'isola e la terra ferma», avrebbe potuto spiegare, offrendo loro biscotti alla melassa e tè bollente e zuccherato. «Questo lo so, lo so bene come il nome di mio marito e come portava il cappello». «Nonna», avrebbe chiesto Lona. «Sei mai stata oltre il braccio?» «Tesoro», le avrebbe risposto. «Non ho mai avuto il motivo di andarci». In gennaio, due mesi dopo la festa di compleanno, il braccio gelò per la prima volta dal 1938. La radio avvisò gli isolani e gli abitanti della terraferma di non fidarsi del ghiaccio, ma Stewie McClelland e Russell Bowie, dopo un pomeriggio passato a bere sidro, presero il gatto delle nevi di Stewie e, sicuro come loro, il gatto delle nevi sfondò il ghiaccio. Stewie riuscì a venirne fuori, anche se perse un piede per congelamento. Il braccio si prese Russell Bowie e se lo portò via. Il 25 gennaio ci fu un servizio funebre per Russell. Stella vi si recò al braccio del figlio Halden e lui pronunciò tutte le parole degli inni e prima della benedizione cantò la dossologia con la sua potente voce stonata. Più tardi, Stella sedette con Sarah Havelock, Hattie Stoddard e Vera Spruce nel bagliore del fuoco di legna nel seminterrato del municipio. Era in corso una festa d'addio per Russell, con tanto di pancia nel colico e tramezzini e la crema di formaggio tagliate a triangolo. Gli uomini, naturalmente, continuavano a uscire per bere un sorso di qualcosa di più forte del punch. La vedova di Russell Bowie sedeva immobile con gli occhi rossi accanto al reverendo Ewell McCracken. Era incinta di sette mesi, sarebbe stato il quinto figlio, e Stella, mezzo addormentata nel tepore del fuoco, pensò, scommetto che tra un po' attraverserà il braccio. Si trasferirà a Freeport o a Lewiston e cercherà posto come cameriera, scommetto che lo farà. Sbirciò Vera e Hattie per vedere di che cosa stessero parlando. No, non ho sentito, diceva Hattie. Che cosa ha detto Freddy? Parlavano di Freddy Dinsmore, l'uomo più vecchio dell'isola. Due anni più giovani di me, però, pensò Stella con orgoglio, che nel 1960 aveva venduto il negozio a Larry McKean e ora viveva della pensione. Ha detto di non aver mai visto un inverno simile, ripeteva Vera, prendendo il lavoro a maglia. Dice che molti si ammaleranno. Sarah Hevlock guardò Stella e le domandò se avesse mai visto un inverno simile. Dopo la prima volta non aveva più nevicato. Il terreno era duro, spoglio e bruno. Il giorno prima Stella aveva fatto trenta passi nel campo tenendo la mano destra all'altezza della coscia e l'erba si era spezzata con rumore di vetri infranti. No, rispose Stella. Nel trentotto il braccio gelò, ma quell'anno ci fu la neve. Ti ricordi Bolsheims, Hattie? Hattie rise. Credo di avere ancora il livido che mi ha fatto sul di dietro la festa di capodanno del cinquantatré. Mi ha dato un pizzicotto così forte. Perché? Quell'anno Bull e mio marito andarono sulla terraferma, disse Stella. Nel febbraio del trentotto infilarono le scarpe da neve e camminarono fino alla taverna di Dorrit sul capo, bevero un bicchierino di whisky e tornarono sempre a piedi. Mi chiesero di andare con loro. Erano come due ragazzini che vanno a slittare con il toboga in mezzo. La guardavano, commossi da quel ricordo. Persino Vera la fissava a occhi spalancati e Vera senz'altro conosceva già quella storia. Sempre secondo quello che si raccontava, Bull e Vera una volta avevano vissuto un po' insieme. Anche se guardando Vera adesso era difficile credere che fosse mai stata giovane. E tu non andasti? Domandò Sara. Forse immaginando il braccio così bianco da sembrare quasi blu nella fredda luce del sole invernale, lo scintillio dei cristalli di neve, la terraferma sempre più vicina. Camminando, sì, camminando sull'oceano come Gesù camminò sulle acque, lasciando l'isola per la prima e ultima volta nella vita a piedi. No, confermò Stella. All'improvviso le dispiacque non aver portato il proprio lavoro a maglia. Non andai con loro. Perché? domandò Hetti quasi indignata. Era giorno di bucato, rispose bruscamente Stella, e in quel momento Missy Bowie, la vedova di Russell, scoppiò in singhiozzi da spezzare il cuore. Stella si girò da quella parte e vide Bill Flanders con la sua giacca a scacchi bianchi e rossi e il cappello di traverso sulla testa fumare un Herbert Tareton tenendone un altro dietro l'orecchio per più tardi. Sentì il cuore balzarle in petto e mise un suono, ma proprio in quell'istante un nodo del legno nella stufa esplose come un colpo di fucile e nessuna delle altre donne la sentì. Povera cara, mormorò Sara. La giusta fine per un buono a nulla, borbottò Hetti. Cercò l'atruce verità sullo scomparso Russell Bowie e la trovò. Poco più di un mendicante quell'uomo, tanto meglio per lei che sia morto. Stella odia malapena queste parole. La giusta ed Eva Bill, così vicino al reverendo McCracken che, volendo, avrebbe potuto pizzicargli il naso. Non dimostrava più di quarant'anni. I suoi occhi erano appena segnati da quelle zampe di gallina che più tardi gli avrebbero solcato la pelle. Indossava i panzaroni di flanella e gli stivali dalla sola di gomma, con i calzettoni di lana grigia rimboccati ordinatamente in fuori. «Aspettiamo solo te, Estelle», diceva. «Vieni di là a vedere come la terraferma. Quest'anno non avrai bisogno di scarpe da neve». Sedeva là sotto, nel seminterrato del municipio, grande come un gigante. Poi scoppiò un altro nodo nella stufa e lui sparì. E il reverendo McCracken continuò a confortare Missy Bowie come se niente fosse accaduto. Quella sera vera chiamò Annie Phillips al telefono e nel corso della conversazione raccontò ad Annie che Stella Flanders, secondo lei, non stava affatto bene. «Se dovesse ammalarsi per Alden, portarla via dall'isola sarebbe un bel problema», commentò Annie. Annie era affezionata ad Alden perché suo figlio Toby le aveva detto che Alden non beveva niente che fosse più forte della birra. Annie era la temperanza in persona. «Riuscirebbe a portarla via solo se fosse in coma», disse Vera, pronunciando la parola con l'accento del profondo sud, «come». «Quanto Stella dice salta, Alden salta». «Alden non è molto brillante, questo lo sai anche tu. Stella lo comanda a bacchetta, sul serio». In quel momento la linea fu disturbata da un crepitio metallico. Vera sentì Annie Phillips per un altro istante, non le parole, solo il suono della sua voce che continuava a parlare dietro il crepitio, crepitio, e poi più niente. Il vento si era messo a soffiare forte e le linee telefoniche erano cadute, forse nello stagno di Godlin o forse nella baia di Burrow, dove si entrava nel braccio con la muta. Era possibile che fossero cadute dall'altra parte, sul capo, e qualcuno avrebbe potuto dire, scherzando solo a metà, che Russell Bowie aveva allungato una mano fredda per rompere il cavo, così, per il gusto di farlo. A meno di duecento metri di distanza, Stella Flanders giaceva sotto la coperta imbottita e ascoltava la strana musica del russare di Alden nell'altra stanza. Ascoltava Alden per non dover ascoltare il vento. Ma il vento lo sentiva lo stesso. Oh, sì, attraversare la spianata gelata del braccio, un miglio a mezzo d'acqua ricoperto da una crosta di ghiaccio, ghiaccio con sotto in profondità le aragoste e le cernie, e forse il corpo contorto nella danza di Russell Bowie, che ogni anno in aprile veniva con l'erpice a motore a rivoltarle il prato. «Chi rivolterà il prato a questo aprire?» si domandò, raggomitolata sotto la trapunta, infreddolita. E come un sogno in un sogno, la sua voce rispose alla sua voce. «Tu ami?» Il vento soffiava facendo sbattere la persiana. Sembrava che la persiana le stesse parlando, ma lei voltò la faccia dall'altra parte e non pianse. «Mia nonna», avrebbe insistito Lona, non rinunciava mai, lei era come sua madre e come la nonna prima di sua madre. «Ma nonna, non ci hai ancora spiegato perché non hai voluto attraversare?» «Perché, bambina, qui sull'isola ho sempre avuto tutto quello che desideravo. Ma è così piccola, noi viviamo a Portland, ci sono gli autobus, nonna. Vedo abbastanza di quello che succede nella città in televisione. Credo che morrò dove sono». Al era più giovane, ma più intuitivo. Non avrebbe insistito come la sorella, ma con le sue domande si sarebbe avvicinato sempre più al cuore della questione. «Non hai mai desiderato attraversare, nonna? Mai!» E lei si sarebbe sporta verso il nipote. Gli avrebbe preso le manine e gli avrebbe raccontato come sua madre e suo padre si fossero trasferiti sull'isola poco dopo essersi sposati. E come il nonno di Bolsheims avesse accolto il padre di Stella come apprendista sulla sua barca. Gli avrebbe raccontato di sua madre, che era rimasta incinta quattro volte, ma una aveva abortito e un altro figlio le era morto una settimana dopo essere nato. Avrebbe lasciato l'isola se avessero potuto salvarlo all'ospedale della terraferma, ma naturalmente il piccolo era morto prima ancora che lei avesse cominciato a pensarci. Avrebbe detto loro che Bill aveva aiutato Jane, la loro nonna, a nascere, ma non che una volta finito si era chiuso nel bagno e prima aveva vomitato e poi pianto come una donna esterica che stesse soffrendo per delle mestruazioni troppo forti. Jane, naturalmente, a 14 anni, aveva lasciato l'isola per frequentare il liceo. Le ragazze non si sposavano più a 14 anni e quando Stella l'aveva vista andarsene in barca con Bradley Maxwell, il cui lavoro quel mese era di traghettare i bambini avanti e indietro, aveva saputo in cuor suo che Jane se n'era andata per sempre anche se sarebbe tornata per un po'. Avrebbe detto loro che Elden era arrivato dieci anni più tardi quando ormai avevano rinunciato e come per ripagarli di ritardo era ancora lì, uno scapolo indefesso e in qualche modo Stella gli era grata di questo perché Elden non era molto intelligente ed era pieno di donne che in vita loro desideravano soltanto incontrare uno come lui, con poco cervello e un cuore grande così, per approfittarsene, anche se questo i bambini non l'avrebbe mai detto. Avrebbe detto invece Louise e Margaret Godlin diedero alla luce Stella Godlin che divenne Stella Flanders, Bill e Stella Flanders diedero alla luce Jane e Alden Flanders e Jane Flanders divenne Jane Wakefield, Richard e Jane Wakefield diedero alla luce Lois Wakefield che divenne Lois per Roll, David e Lois per Roll diedero alla luce Lona e Hal, questi siete voi bambini. Siete Godlin Flanders Wakefield per Roll, il vostro sangue nelle pietre di quest'isola e io rimango qui perché la terra ferma è troppo lontana per me. Sì, io amo, ho amato comunque o almeno ho cercato di amare, ma il ricordo è così grande e profondo e io non posso attraversare. Godlin, Flanders, Wakefield, Per Roll. Fu il febbraio più freddo da quando esistevano i rilevatori del servizio meteorologico nazionale e a metà del mese il ghiaccio che copriva il braccio poteva ritenersi sicuro. I cingolati con gli sci al posto delle ruote ronzavano e si impennavano e a volte si rovesciavano quando affrontavano malamente le onde ghiacciate. I bambini cercarono di pattinare, trovarono il ghiaccio troppo irregolare per divertirsi e tornarono allo stagno di Godlin dall'altra parte della collina, ma non prima che Justin McCracken, il figlio del reverendo, si fosse rotto una caviglia rimanendo con un pattino impigliato in una fessura nel ghiaccio. Lo portarono all'ospedale sulla terraferma, dove un dottore proprietario di una corvette gli disse, ragazzo tornerà come nuova. Freddy Dinsmore morì all'improvviso tre giorni dopo la frattura alla caviglia di Justin McCracken. Alla fine di gennaio aveva preso l'influenza, non aveva voluto saperne del dottore, aveva detto a tutti che si trattava solo di un raffreddore preso per essere uscito a ritirare la posta senza la sciarpa e si era messo a letto ed era morto prima che qualcuno avesse avuto il tempo di portarlo sulla terraferma e collegarlo a tutte quelle macchine che si servivano ad aiutare i malati come Freddy. Suo figlio George, un agitatore della più bell'acqua anche all'avanzata età, per agitare almeno, di 68 anni, trovò Freddy con una copia del Bangor Daily News in una mano e il Remington scarico accanto all'altra. Evidentemente poco prima di morire aveva pensato di pulirlo. George Dinsmore si abbandonò a tre settimane di Baldoria, finanziato da qualcuno al corrente del fatto che George avrebbe ben presto intascato l'assicurazione del padre. Hattie Stoddard andò in giro dicendo a tutti quelli disposti ad ascoltarla che il vecchio George Dinsmore era un peccatore e un disgraziato, poco più di un mendicante. C'era molta influenza in giro, la scuola chiuse per due settimane quel febbraio, invece che per una soltanto, perché quasi tutti gli scolari erano a casa malati. La neve non alimenta, la neve non alimenta i germi, diceva Sarah Havelock. Verso la fine del mese, quando la gente cominciava ad aspettare con ansia il falso sollievo di marzo, prese l'influenza anche Alden Flanders. Se la portò in giro per una settimana, poi si mise a letto con la febbre a quaranta. Come Freddy si rifiutò di chiamare il dottore e Stella si preoccupò e si mise in ansia e si agitò. Alden non era anziano quanto Freddy, ma quel maggio avrebbe compiuto sessant'anni. Finalmente arrivò la neve, dodici centimetri il giorno di San Valentino, altri dodici il venti e trenta con una bella tempesta il ventinove di febbraio. La neve si stendeva bianca e strana tra la baglia e la terraferma, come un campo di pecore dove da sempre a memoria Duomo in quel periodo dell'anno c'era stato solo grigiore e acqua ribollente. Diverse persone compirono la traversata. Quell'anno non erano necessarie scarpe da neve, perché la neve si era gelata in una crosta solida e luccicante. Avrebbero anche potuto bere un goccetto, pensò Stella, ma non avrebbero potuto berlo da Dorit. Dorit era bruciato nel 1958 e vide Bill tutte e quattro le volte. Una volta le disse dovresti venire in fretta Stella, si va a piedi, che cosa ne dici? Non poteva dire niente, si stava mordendo un pugno. Tutto quello che io abbia mai desiderato o di cui abbia avuto bisogno qui c'è, avrebbe detto ai nipoti. Avevamo la radio e ora abbiamo la televisione, ed è tutto quello che voglio dal mondo oltre il braccio. Ogni anno facevo l'orto. Le aragoste? Avevamo sempre una pentola di stufato di aragoste sulla stufa, e quando veniva a trovarci il reverendo la toglievamo, e la nascondevamo dietro la porta della dispensa, perché non vedesse che mangiavamo il pane dei poveri. Ho visto il bello e il cattivo tempo, e se ci sono state volte in cui mi sono chiesta che effetto mi avrebbe fatto trovarmi nei grandi magazzini, invece che ordinare dal catalogo, o entrare in uno di quei supermercati che si vedono in televisione, invece che comprare qui il negozio, o mandare di là a Alden, quando c'era da comprare qualcosa di speciale come il cappone di Natale o il prosciutto di Pasqua. E se una volta ho desiderato trovarmi in Congress Street a Portland e guardare la gente nelle macchine sul marciapiede, più persone con una sola occhiata di quante ce ne sino sull'isola, semmai ho desiderato queste cose. Desideravo ancora più di stare qui. Non sono strana, non sono originale, neppure troppo eccentrica per una donna della mia età. Mia madre a volte diceva, le differenze del mondo sono tutte tra il lavoro e il desiderio, e lo credo con tutta me stessa. Credo che sia meglio orare in profondità che in larghezza. Questa è casa mia, e io la amo. Un giorno, a metà marzo, con il cielo bianco e basso come una perdita di memoria, Stella Flanders è sedetta in cucina per l'ultima volta. Allacciò gli stivali attorno ai polpacci magri per l'ultima volta, e avvolse la sciarpa di lana rossa, un regalo di Natale che Hettile aveva fatto tre Natali prima, attorno al collo per l'ultima volta. Sotto il vestito portava un completo di biancheria di Holden. I mutandoni le arrivavano fin sotto le flacide vestigia dei seni, la maglia quasi fino alle ginocchia. Fuori il vento stava ricominciando a soffiare, e la radio annunciò che nel pomeriggio avrebbe nevicato. Lei infilò cappotto e guanti. Dopo un momento di incertezza infilò sui propri un paio di guanti di Holden. Holden era guarito dall'influenza, e quella mattina lui e Harley Blood erano fuori a riparare lo schermo di una porta per Missy Bowie, che aveva partorito una bambina. Stella l'aveva vista, e la povera piccina era tale e quale a suo padre. Si soffermò davanti alla finestra a guardare il braccio, e Bill era lì, come lei aveva sospettato. Circa a metà strada tra l'isola e il capo, in piedi sul braccio, come Gesù che cammina sull'acqua, e le faceva segno, sembrava voler dire a gesti che se davvero intendeva mettere piede una volta in vita sua sulla terra ferma, doveva frettarsi. Se è quello che desideri, Bill, si cruciò in silenzio. Dio sa che io non lo desidero affatto. Ma il vento pronunciò altre parole. Lei lo desiderava. Voleva vivere quell'avventura. Era stato un inverno doloroso per lei. L'artrite che andava e veniva irregolarmente era tornata più insidiosa che mai, infiammandole le giunture delle dita e delle ginocchia con fuoco rosso e ghiaccio blu. Uno degli occhi era nebbiato e qualche giorno prima Sara aveva detto, non senza un certo imbarazzo, di essersi accorta del focolaio da quando Stella era sulla sessantina e di averlo visto crescere a sbalzi. Peggio di ogni altra cosa, aveva ricominciato a provare le fitte allo stomaco e due mattine prima si era svegliata alle cinque. Si era trascinata sul pavimento squisitamente freddo fino al bagno e aveva sputato nella tazza del cesso una gran quantità di sangue. Quella mattina le era successo di nuovo, ma il sangue aveva un sapore diverso, un colore strano e inquietante. Negli ultimi cinque anni il dolore allo stomaco era andato e venuto, a volte migliorando, a volte peggiorando e fin dall'inizio lei aveva capito che doveva trattarsi di cancro. Il cancro aveva ucciso sua madre e suo padre, e anche il padre di sua madre. Nessuno di loro aveva passato la settantina, così lei immaginava di aver fatto saltare tutte le scommesse che quei tipi dell'assicurazione organizzavano nel cortile del faligname. «Mangi come un cavallo», le aveva detto Holden poco dopo che i dolori erano cominciati, e lei aveva notato per la prima volta il sangue nelle feci del mattino. «Non lo sai che le vecchie parruccone come te dovrebbero stare a dieta?» «Fila via, altrimenti le buschi!» aveva risposto Stella, alzando una mano per minacciare il figlio dei capelli ormai grigi, il quale si era chinato su se stesso, facendosi piccolo piccolo e ridendo aveva gridato «No, mamma, ritiro tutto!» «Sì, aveva mangiato con appetito, non perché ne avesse voglia, ma perché credeva, come molti della sua generazione, che il cancro se lo nutrivi ti lasciava stare. E forse funzionò, almeno per un certo periodo. Il sangue nelle feci andava e veniva, e a volte scompariva per mesi e mesi. Holden si era abituato a vederla servirsi due volte, e tre, quando il dolore l'affliggeva particolarmente, ma lei non ingrassò mai di un chilo. Ora sembrava che il cancro avesse attaccato quello che i francesi mangiarane chiamavano «piece de resistance». Uscì dalla porta e vide il cappello di Holden, quello con il paraorecchie di pelliccia, appeso a un piolo nell'entrata. Lo calzò. La visiera le coprì anche le sopracciglia sale e pepe, e poi si guardò attorno un'ultima volta per vedere se aveva dimenticato qualcosa. La stufa era bassa, e Holden ancora una volta aveva lasciato troppo aperto lo sportello. Continuava a ripeterglielo, ma era qualcosa che lui non riusciva proprio a fare. «Holden, quando non ci sarò più, brucerai ogni inverno un quarto di catasta in più», borbottava e apriva la stufa. Guardava dentro e le sfuggiva un grido soffocato. Richiudeva la stufa e aggiustava lo sportello con dita tremanti. Per un istante, solo un istante, aveva visto nella brace il viso della sua vecchia amica Anna Belfrein. Era il suo viso come da viva, completo anche di neo sulla guancia. E non gli aveva forse strizzato l'occhio? Pensò di lasciare ad Holden un biglietto spiegando dove era andata. Poi si disse che forse Holden, lentamente, come era il suo solito, avrebbe capito. Continuando a scrivere biglietti nella testa, «Da quando è iniziato l'inverno ogni giorno, vedo tuo padre e dice sempre che morire non è così male, almeno così mi sembra che dica». Stella uscì in quella bianca giornata. Il vento le scosse. E dovette riaggiustarsi il capello di Alden sulla testa, prima che il vento glielo portasse via per scherzo, facendolo rotolare lontano. Il vento sembrava insinuarsi in ogni maglia larga degli abiti per morderla, umido freddo di marzo con la voglia di nevicare. Si avviò giù per la collina verso la baia, attenta a camminare sulla cenere e le scorie sparse da George Dinsmore. Una volta George aveva guidato l'aratro per la città di Capo Procione, ma durante la gelata del 77 si era sbronzato con whisky di segale e aveva guidato l'aratro contro non uno, non due, bensì tre pali dell'elettricità. Per cinque giorni il Capo era rimasto al buio. Stella ricordava quanto fosse strano guardare attraverso il braccio e vedere solo oscurità. Una persona era abituata a vedere quel coraggioso gruppuscolo di luci. Ora George lavorava sull'isola e dal momento che non c'era aratro non riusciva a combinare grandi guai. Passando davanti alla casa di Russell Bowie vide Missy, pallida come latte, che la fissava da dietro la finestra. Stella agitò una mano. Missy rispose agitando una mano. Avrebbe parlato così. Sull'isola ci arrangiavamo sempre da soli. Quando Ger Henrid quella volta si ruppe i vasi sanguigni del petto, per tutta l'estate mangiammo solo minestra per pagargli l'operazione a Boston. E Ger, grazie a Dio, tornò indietro vivo. Quando George Nismore abbatte quei pali della luce e la Hydro stabilì un diritto di priorità sulla sua casa, facciamo in modo che la Hydro avesse il suo denaro e che George avesse un lavoro che gli rendesse abbastanza per comprare le sigarette e per bere. Facciamo in modo che la Hydro avesse il suo denaro e che George avesse un lavoro che gli rendesse abbastanza per potersi comprare le sigarette e da bere. Perché no? Terminata la giornata di lavoro non era buono per nient'altro, anche se quando lavorava a Cottimo sgobbava come un mulo. Quella volta che si cacciò nei guai fu perché era notte e di notte George beve sempre. Suo padre almeno gli dava da mangiare. Ora Missy Bowie è sola con un altro figlio. Forse rimarrà qui e porterà qua i suoi beni, i suoi quattro soldi e probabilmente non saranno abbastanza ma avrà tutto l'aiuto necessario. Più facilmente però se ne andrà, ma se rimane non morirà certo di fame. E ascoltate, l'ona e all, se deciderà di restare, forse potrebbe conservare qualcosa di questo piccolo mondo con il piccolo braccio da una parte e il grande braccio dall'altra. Qualcosa che sarebbe troppo facile perdere, impastando polpettone a Lewiston o ciambelle a Portland o servendo da bere al Nashville Nord a Bangor. E sono abbastanza vecchia per non menare il camperlaia su cose come su cosa questo qualcosa potrebbe essere. Un modo di esistere è un modo di vivere. Un sentimento. Si erano arrangiati da sé anche sotto altri aspetti, ma questo ai bambini non l'avrebbe detto. Non avrebbero capito, come neppure Lois e David, anche se Jane aveva conosciuto la verità. C'era stato il figlio di Norman e di Etty Wilson che era nato mongoloide. I piedini girati in sotto, il cranio calvo tutto bozze e crateri, le dita unite e come se avesse sognato troppo a lungo e con troppa concentrazione mentre nuotava in quel braccio interiore. Il reverendo McCracken era venuto a battezzarlo e il giorno dopo era venuta Mary Dodge che già allora come ostetrica aveva aiutato a nascere più di cento bambini. E Norman portò Etty giù dalla collina a vedere la nuova barca di Frank Child. E anche se riusciva malapena a camminare, Etty andò senza lamentarsi, però prima di uscire si era fermata sulla porta a guardare Mary Dodge che sedeva tranquillamente accanto alla culla del piccolo idiota lavorando a maglia. Mary aveva alzato lo sguardo e quando i loro occhi si erano incontrati Etty era scoppiata in lacrime. Coraggio, le aveva detto Norman sconvolto, coraggio Etty, coraggio. E quando erano tornati un'ora più tardi il bambino era morto, una di quelle morti nella culla e non aveva sofferto. E molti anni prima, prima della guerra, durante la depressione, tre bambini nel tornare da scuola erano state molestate, non gravemente, almeno non si vedeva nessuna cicatrice, e raccontarono tutte di un uomo che aveva offerto loro di vedere un mazzo di carte che possedeva con su ciascuna carta un cane diverso. Avrebbe mostrato loro questo stupendo mazzo di carte, diceva l'uomo, se le bambine lo avessero seguito nei cespugli. E una volta nei cespugli l'uomo disse, ma prima dovete toccare questo. Una delle bambine era Gert Symes, che nel 1978 sarebbe stata eletta insegnante dell'anno nel Maine per il suo lavoro a Brunswick High, e Gert, che allora aveva solo cinque anni, raccontò a suo padre che all'uomo mancavano alcune dita di una mano. Una delle altre bambine confermò che era proprio così. La terza non rammentava niente. Stella ricordava che quell'estate, in un giorno di temporale, Olden era uscito senza dirle dove andava, benché lei gliel'avesse chiesto. Dalla finestra aveva visto Olden incontrare Ball Symes in fondo al sentiero, poi gli aveva raggiunti Freddy Dinsmore e giù alla baia aveva visto suo marito, che vi si era recato come sempre quella mattina con sotto il braccio il pacco della colazione. Altri uomini si erano uniti a loro, e quando si erano mossi lei ne aveva contati undici. Tra loro c'era anche il predecessore del reverendo McCracken, e quella sera un tale di nome Daniels venne trovato ai piedi di Sliders Point, dove le rocce spuntano dalla schiuma come le fauci di un drago, annegato con la bocca aperta. Questo Daniels era un tale che Big George Havelock aveva assunto per aiutarlo a mettere nuove solette sotto la casa e un nuovo motore nel suo camion modello A. Veniva dal New Hampshire e una volta finito dagli Havelock aveva convinto altri ad affidare gli altri lavori, e in chiesa lo sentivano tutti come cantava. Sembrava, si diceva in giro, che Daniels, camminando sulla Sliders Point, fosse scivolato e precipitato fino in fondo. Aveva il collo rotto e la testa sfondata. Dal momento che non aveva parenti, venne seppellito sull'isola, e il predecessore del reverendo McCracken gli fece l'elogio funebre dicendo che questo Daniels era stato un grande lavoratore e un ottimo aiutante, anche se gli mancavano due dita della mano destra. Poi lesse la benedizione, e tutti insieme erano andati nel seminterrato del municipio, dove avevano bevuto pancia in alcolico e mangiato tramezzini alla crema di formaggio. E Stella non domandò mai agli uomini dove fossero andati il giorno in cui Daniels scivolò dalla cima di Sliders Point. «Bambini», avrebbe detto loro, «ci siamo sempre arrangiati da soli. Dovevamo perché a quei tempi il braccio era più largo, e quando il vento soffiava e la schiuma batteva le coste e l'oscurità scendeva presto, ci sentivamo molto piccoli, granelli di polvere nella mente di Dio. Così era naturale per noi riprenderci per mano l'uno con l'altro. Ci prendevamo per mano, bambini, e se ci sono state volte in cui ci siamo domandati perché o se esistesse davvero qualcosa chiamato amore, era solo perché avevamo sentito il vento e l'acqua nelle notti lunghe d'inverno, e avevamo paura. No, non ho mai provato il bisogno di lasciare quest'isola. La mia vita era qui. A quei tempi il braccio era più largo. Stella raggiunse la baia. Guardò a destra e a sinistra, con il vento che le faceva svolazzare il vestito come una bandiera. Se ci fosse stato qualcuno sarebbe scesa ancora più giù e si sarebbe avventurata sulla rocce, benché fossero coperte di ghiaccio. Ma non c'era nessuno, e lei si incamminò lungo il pontile, oltre al ricovero per le barche del vecchio Symes. Raggiunta l'estremità, rimase per qualche istante immobile, la testa alta, il vento che soffiava, e lei che lo sentiva attenuato attraverso il paraorecchie imbottiti del cappello di Holden. Bill era laggiù che le faceva segno. Dietro di lui, oltre il braccio, si vedeva la Congo Church sul capo, il campanile appuntito, quasi invisibile contro il cielo bianco. Sbuffando, sedette sul molo, e poi si lasciò cadere sulla crosta di neve sotto di lei. Gli stivali affondarono un poco, non molto. Risistemò il cappello di Holden, che voglia, che voglia aveva il vento di strapparglielo, e cominciò a camminare verso Bill. A un certo punto pensò di voltarsi indietro, ma se ne guardò bene. Il suo cuore, pensava, non avrebbe retto. Camminava, e la neve gli scricchiolava sotto gli stivali, e ascoltava il rumore sordo del ghiaccio in assestamento. Laggiù c'era sempre Bill, più lontano, ma che continuava a farle segno. Tossì, sputò sangue sulla neve bianca che copriva il ghiaccio. Ora il braccio la circondava da ogni lato, e per la prima volta in vita sua lei poteva leggere il cartello. Da Stanton, esche a nolo, senza il binocolo di Holden. Vedeva le auto andare avanti e indietro lungo la strada del capo, e pensò, con sincera meraviglia, possono andare veloci quanto vogliono. Portland, Boston, New York, pensa. E riuscì quasi a farlo, riuscì quasi a immaginare una strada che semplicemente si srotolava davanti a lei spalancando le confini del mondo. Un fiocco di neve le fluttuò davanti agli occhi, un altro, un terzo. Ben presto stava nevicando, e lei camminava attraverso un delicato mondo di un bianco luminoso in movimento. Attraverso la cortina diafana che a volte si apriva, vide capo Procione. Alzò le mani per sistemare di nuovo il cappello di Holden, e la neve sulla visiera le cade negli occhi. Il vento sollevava nuvole di neve polverosa, e una di esse vide Card Habersham, che era affondato insieme con il marito di Hattie Stoddard sul Dancer. Ben presto, però, la luminosità cominciò a offuscarsi, mentre la neve scendeva più fitta. La strada del capo si oscurò, si oscurò, e poi scomparve. Per un po' lei riuscì a scorgere la croce sul campanile della chiesa, ma poi sparì anche quella, come un falso sogno. L'ultimo a sparire fu il cartello giallo come il sole, con scritto da Stanton, Esche Annolo, dove ci si poteva procurare anche olio per motori, carta moschicida, panini italiani e Budweiser a sazietà. Ora Stella camminava in un mondo privo di colore, un sogno biancastro di neve, proprio come Gesù che cammina sull'acqua, pensò. E finalmente si decise a voltarsi, ma l'isola era sparita. Vedeva le proprie orme tornare indietro, diventare sempre più indefinite, finché solo l'impronta dei tacchi restava visibile, e poi neanche più quella, più niente. Pensò, è accecante. Devi stare attenta, Stella, o non arriverai mai sulla terra ferma. Camminerai in cerchio finché non sarai sfinita e poi morirai congelata sul mare. Una volta Bill le aveva spiegato che quando ci si perde in un bosco, bisogna fingere che la gamba dalla parte della mano destra si azzoppa. Altrimenti quella gamba comincia a condurti, e tu cammini in cerchio e non te ne rendi neppure conto finché non ritrovi le tue tracce. Stella pensava di non potersi permettere un rischio del genere. Neve oggi, stanotte e domani, aveva annunciato la radio. E in un biancore come quello, lei non si sarebbe neppure accorta di ripercorrere le proprie tracce, perché il vento e la neve fresca le avrebbero cancellate molto prima che lei le incontrasse. Le mani si erano intorpidite, nonostante le due paia di guanti, e i piedi non li sentiva più da un pezzo. In un certo senso era quasi un sollievo, l'intorpidimento chiudeva la bocca alla sua artrite galoppante. Stella cominciò a zoppicare, facendo lavorare di più la gamba sinistra. L'artrite e le ginocchia se la risvegliata, e ben presto cominciarono a farle molto male. I capelli bianchi le svolazzavano dietro la testa. Le labbra lasciavano scoperti i denti. Aveva ancora tutti i suoi, tranne quattro, e guardava dritto davanti a sé, aspettando che quel cartello nero sul giallo si materializzasse tra i fiocchi turbinanti. Non accadde. Più tardi si accorse che il biancore luminoso della giornata si stava uniformemente ingrigendo. La neve cadeva più fitta e più pesante di prima. I piedi poggiavano ancora sulla crosta, ma ora camminava su dieci centimetri di neve fresca. Guardò l'orologio, ma si era fermato. Stella realizzò che quella mattina, per la prima volta in venti o trent'anni, doveva essersi dimenticata di caricarlo. O si era fermato per sempre. Era stato di sua madre e l'aveva mandato due volte al capo con Holden, dove il signor Dosti prima l'aveva lodato e poi pulito. L'orologio, almeno quello, era stato sulla terraferma. Cadde la prima volta una quindicina di minuti dopo essersi accorta del crescente grigiore. Per un istante rimase sulle mani e sulle ginocchia, pensando a come sarebbe stato facile fermarsi lì, rannicchiarsi e ascoltare il vento. Ma poi, la determinazione che l'aveva spinta fin là, le diede uno scossone e lei si alzò con una smorfia. Rimase in piedi nel vento, guardando davanti a sé, desiderando che i suoi occhi vedessero qualcosa, ma non vedevano niente. Diventa buio presto. Bene. Aveva sbagliato strada, aveva deviato a destra o a sinistra, altrimenti ormai sarebbe stata sulla terraferma. Eppure non credeva di essersi sbagliata tanto da camminare parallelamente alla terraferma o addirittura indietro in direzione dell'isola. Il navigatore, nascosto dentro di lei, le murmurava che aveva insistito troppo sulla gamba sinistra, fino a deviare in quella direzione. Era sicura di avvicinarsi alla terraferma, ma lungo una diagonale e non per la via più diretta. Il navigatore voleva che lei svoltasse a destra, ma Stella non l'avrebbe fatto. Continuò dritta davanti a sé, ma smise di zoppicare. Fu colta da uno spasmo di tosse e sputò sangue vermiglio nella neve. Dieci minuti più tardi, il grigio si era fatto più scuro e ora lei si trovava nel crepuscolo soprannaturale di una tempesta di neve, cadde di nuovo. Cercò di alzarsi, ma non ci riuscì in un primo momento. Poi alla fine si rimise in piedi. Restò immobile oscillando nella neve, a malapena in grado di resistere al vento. Ondate di debolezza che le spazzavano la testa, facendola sentire ora pesante, ora leggera. Forse non tutto il mughiare che sentiva nell'orecchiera del vento, ma fu senz'altro il vento che finalmente riuscì a straparle dalla testa il cappello di Olden. Tentò di afferrarlo, ma il vento lo allontanò dalla sua portata e lei lo vide solo per un istante, che rotolava allegramente su se stesso nel grigiore sempre più scuro, una macchia di colore arancione. Toccò la neve, rotolò, fu sollevato di nuovo, sparì. Ora i capelli le fluttuavano liberamente attorno la testa. Niente di male, Stella, le disse Bill. Puoi mettere il mio. Lei spalancò la bocca e si guardò attorno nel bianco. Si era portata istintivamente le mani guantate al petto e sentì unghie accuminate conficcarsi nel cuore. Non vide niente se non veli volanti di neve. Poi, dalla gola grigia della sera, con il vento che vi fischiava attraverso come la voce di un demone in una galleria nervosa, uscì suo marito. All'inizio era solo un insieme di colori che si muovevano sulla neve. Rosso, nero, verde scuro, verde chiaro. Poi i colori assunsero la forma di una giacca di flanella con il bavero alzato, pantaloni di flanella e stivali verdi. Le porgeva il cappello in un gesto che sembrava assurdamente galante e il viso era proprio quello di Bill, non ancora assegnato dal cancro che se l'era portato via. Era questo che aveva tanto temuto? Che le si presentasse un'ombra devastata dal marito, una figura scheletrica da campo di concentramento con la pelle tirata e lucida sugli zigomi e gli occhi affondati nelle orbite? E provò un enorme sollievo. Bill, sei proprio tu? Certo. Bill, ripetè Stella e mosse un passo baldanzoso verso di lui. Ma le gambe la tradirono e pensò che sarebbe caduta, caduta attraverso quell'ombra. Dopotutto si trattava di uno spettro. Ma lui la prese tra le braccia, forti e solide, che l'avevano trasportata oltre la soglia di quella casa, che da anni ormai divideva solo con Holden. La sostenne e un istante più tardi sentì che le calzava il cappello in testa. Sei proprio tu? domandò di nuovo in credula, guardandolo in faccia, guardando le zampe di gallina attorno agli occhi che ancora non erano infossati, e la neve depositata sulle spalle della giacca a scacchi da caccia e i morbidi capelli castani. Sono io. Siamo tutti noi. Si voltarono e lei vide gli altri arrivare dalla neve che il vento spingeva attraverso il braccio nell'oscurità crescente. Un grido, metà di gioia e metà di paura, le sfuggì dalla bocca, quando vide Madeline Stoddard, la madre di Hattie, in un vestito blu che svolazzava nel vento come una campana, e la teneva per mano il papà di Hattie, non uno scheletro sgretolato andato a fondo chissà dove nel mare con il dancer, ma intero e giovane. E dietro di loro, Annabelle, esclamò. Annabelle, Efraim, sei tu. Era Annabelle. Anche nella tempesta di neve, Stella riconobbe il vestito giallo che Annabelle aveva indossato al matrimonio suo, di Stella, e mentre si spingeva faticosamente verso l'amica morta, aggrappandosi a Bill, le parve di sentire un profumo di rose. Annabelle, ci siamo quasi, cara, le disse Annabelle prendendole un braccio. Il vestito giallo, che ai suoi tempi era stato considerato osee, ma per fortuna di Annabelle, è con grande sollievo di tutti non scandaloso. Le lasciava nude le spalle, ma Annabelle non sembrava sentire il freddo. I capelli, morbidi e color rame brunito, si agitavano lunghi nel vento. Manca pochissimo. Ripartirono. Altre figure uscirono dalla notte nevosa, perché ormai era notte. Stella ne riconobbe diverse, ma non tutte. Tommy Freyne aveva raggiunto Annabelle, Big George Hevlock, che era morto come un cane nei boschi, trotterellava dietro a Bill. C'era quel tale che aveva vissuto per più di vent'anni nel faro sul capo e che immancabilmente si recava sull'isola per il torneo di carte che Freddy Dinsmore organizzava ogni febbraio. Stella non era sicura di ricordare bene il suo nome e c'era anche Freddy. E di fianco a lui, ma a distanza, tutto solo e come estranito, camminava Russell Bowie. Guarda, Stella, disse Bill, e lei vide delle sagome nere uscire dal buio come le prue scheggiate di tanti navi. Non erano navi, ma rocce spaccate da fessure. Avevano raggiunto il capo, avevano attraversato il braccio. Sentì delle voci, ma non era sicura che stessero davvero dicendo, prendi la mia mano, Stella, tu, prendi la mia mano, Bill, tu, oh tu, Annabelle, Freddy, Russell, John, Hattie, Frank, prendete la mia mano, prendete la mia mano, la mia mano, la mia mano, tu, Ami. Vuoi darmi la mano, Stella? domandò una nuova voce. Si guardò e vide Ball Symes. Sorrideva dolcemente, eppure lei provò una specie di terrore guardandolo negli occhi e per un istante si ritrasse, stringendo più forte la mano di Bill dove l'altro non poteva vederla. E? Ora? domandò Ball. Eh, Stella, credo di sì, ma non fa male. Almeno non l'ho mai sentito dire. Scopiò all'improvviso in lacrime, tutte le lacrime che non aveva mai pianto, e mise la mano in quella di Ball. Sì? singhiozzò. Verrò. Rimasero tutti in piedi in cerchio nella tempesta, i morti dell'isola delle capre, e il vento urulava attorno a loro trasportando il suo carico di neve, e da loro si sprigionò una canzone. Salì nel vento, e il vento se la portò via. Cantarono tutti, come cantano i bambini con le loro voci acute, dolci, nelle sere d'estate che lentamente diventano notti. Cantavano, e Stella si sentiva andare a loro e con loro, finalmente sull'altra sponda del braccio. Sentì una fitta di dolore, ma sopportabile. Perdere la verginità era stato peggio. Erano in piedi in cerchio nella notte. La neve vorticava attorno a loro, e loro cantavano, cantavano, e... E Alden non riuscì a raccontarlo a David e a Lois. Ma nell'estate dopo la morte di Stella, quando i bambini arrivarono per le solite due settimane all'anno, lo disse a Lona e Hall. Disse loro che durante le grandi tempeste invernali il vento sembra cantare con voce quasi umana, e che a volte gli pareva persino di distinguere le parole. Lode a Dio, dal quale riceviamo ogni grazia. Lodate Dio, voi, creature degli abissi. Ma non disse loro, provate a immaginare il tardo Holden privo di immaginazione e raccontare simili cose a voce alta anche solo ai bambini, che a volte sentiva quel suono e rabbrividiva anche accanto alla stufa, che allora smetteva di intagliare o di riparare le trappole, e pensava che il vento cantava con la voce di quelli che erano morti, che si riunivano da qualche parte sul braccio e cantavano come un coro di bambini. Gli sembrava di sentire voci, e in quelle nottate a volte sognava di cantare la dossologia, non visto e non sentito, al proprio funerale. Ci sono cose che non si possono raccontare, e ci sono cose, non proprio segreti, che non si possono discutere. Avevano trovato Stella morta di freddo sulla terra ferma il giorno dopo la fine della tempesta. Sedeva su una sede naturale di roccia un centinaio di metri a sud dei confini della città di Capo Procione, proprio congelata. Il dottore proprietario della Corvette si dichiarò francamente stupito. Era una camminata di quattro migli abbondanti, e l'autopsia richiesta dalla legge in caso di morte improvvisa e insolita aveva mostrato un cancro ormai in stadio avanzato. In verità la vecchia nera crivellata. Holden doveva dire a David e Lois che il cappello sulla testa di Stella non era il suo? Larry McKinn l'aveva riconosciuto. Anche John Benson. Lui gliel'aveva letto negli occhi e immaginava che loro lo avessero letto nei suoi. Non era vissuto abbastanza a lungo per dimenticare il cappello con cui era morto suo padre. L'aspetto della visiera ai punti in cui era rotta. Sono cose su cui bisogna riflettere lentamente, avrebbe detto ai bambini se avesse saputo come dirglielo. Cose sulle quali bisogna riflettere a lungo. Mentre le mani lavorano e il caffè fuma lì vicino nel suo boccale di porcellana. Sono domande alle quali forse si può trovare una risposta. I morti cantano e amano i vivi. Nelle notti dopo che Lona e Al furono tornati con i genitori sulla terraferma a bordo della barca di All Carey con i bambini a poppa che agitavano le mani in segno di saluto, Holden riconsiderò la domanda e molte altre e la questione del cappello di suo padre. I morti cantano e amano. Durante quelle lunghe notti solitarie, ora che sua madre, Stella Flanders, era nella tomba, gli parve spesso di poter rispondere sì. Ciao, se sei arrivato sino a qua, allora hai condiviso con me la fine di questa antologia, Scheletri, di Stephen King. Questo infatti era l'ultimo racconto che conteneva questo libro. Ora io credo che farò dopo di questo un altro video dove leggerò le note dell'autore. Non a tutti interessano, però a me sì e forse anche a qualcuno di voi, perché spiega delle curiosità e degli aneddoti su tutte le storie che sono contenute in questo libro. E poi manca un ultimo capitolo che non ricordo il titolo, però ricordo che fosse una poesia e non l'ho letta in un video a parte perché sarebbe durato davvero poco per fare un video. Quindi il prossimo video che farò sarà le note dell'autore e la poesia di cui non ricordo il titolo. Niente, se ti è piaciuto questo racconto, condividilo con le persone che secondo te potrebbero apprezzarlo e metti un mi piace e iscriviti al canale se vuoi sostenermi. E lasciami nei commenti la faccina di una faccia con l'aureola. Io ti ringrazio. Ricordati che ci sono anche i miei profili Facebook e Instagram dove trovi dei contenuti esclusivi, foto, curiosità su di me, sui libri, le dirette delle letture, no edit soprattutto. E basta. Poi se mi vuoi davvero tanto, 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 tanto bene clicca sul cuoricino del super like. Ciao e al prossimo video.